E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto Io sono Emiliano e anche oggi torno al nostro consueto Morning with Crypto L'appuntamento che ci accompagna dal lunedì al venerdì con le principali news di mercato Andremo a parlare di una questione estremamente importante per il futuro degli asset a rischio Per il futuro dell'economia e soprattutto anche per il futuro di Bitcoin Che vediamo comunque essere molto correlato agli eventi macroeconomici attuali Quello dei tassi di interesse Perché ha parlato Aiel e tra poco arriveremo anche a questo Ma come sempre prima di partire il mio invito è uno Quello di lasciare un bel mi piace E qualora questi contenuti fossero di vostro interesse e di vostro gradimento A me aiuta tanto col canale e se siete nuovi Ricordatevi anche di iscrivervi col click sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati Insomma lo sapete che rimanere sul pezzo è fondamentale in un settore che si muove Alla velocità della luce Detto questo non perdiamo altro tempo Date un'occhiata ai link che trovate qua sotto in descrizione E partiamo Partiamo appunto dal discorso che è stato fatto dalla Yellen Perché ha parlato di tassi di interesse e delle banche americane Insomma il segretario del tesoro americano ha parlato di come si aspetta che in una condizione di difficoltà In una condizione di anche incertezza per il sistema bancario Ha detto che con questa manovra insomma sono riusciti a riportare la calma nel sistema Calma che può essere tutto e nulla nel senso che la calma può arrivare ma poi può anche sparire velocemente I problemi non sono risolti Ma in ogni caso quello che è andata poi a confermare il fatto che si aspetta che le banche offrano meno mutui Meno prestiti agli cittadini e ciò faccia rallentare l'inflazione e di conseguenza non sia necessario andare a bilanciare Ulteriormente un incremento di tassi di interesse per andare appunto a ridurre l'inflazione Ma che il sistema che si sta andando a creare può portare effettivamente a una riduzione dell'inflazione Questa è una situazione estremamente problematica a mio parere Perché una condizione di questo tipo capite bene che effetti appunto sull'economia reale poi possa andare a offrire E' chiaro che qui il piano è abbastanza semplice nel senso non incremento i tassi Le banche iniziano a rallentare appunto il favoreggiamento dello sviluppo economico A quel punto in questo momento appunto lo dice anche nell'articolo L'economia comunque è tutto sommato il mercato del lavoro continua a essere forte Fino a quando non vediamo che inizia a dare primi segnali A quel punto l'inflazione sarà arrivata a un momento di controllo e andiamo a rilasciare i tassi di interesse O comunque andiamo a inserire nuova moneta Insomma il piano sembrerebbe questo e non credo che le visioni siano completamente distorte Probabilmente da quello che potrà fare anche la Fed E' chiaro che si tratta di speculazioni Sono affermazioni comunque secondo me abbastanza forti E soprattutto ci fanno capire anche come effettivamente Quella che effettivamente possono essere i piani per il futuro E nessun incremento di tasso O insomma la prossima seduta sappiamo essere non tra pochissimo ma tra qualche settimana Ma su cosa, come andrà a reagire sul mercato tradizionale, sul mercato cripto Effettivamente potrà esserci un ulteriore appunto incremento Sono tutte situazioni molto interessanti E soprattutto capire ciò che non è ancora stato apprezzato dal mercato E' quello che fa la differenza Però torneremo sicuramente a parlarne Così come parliamo un attimo di Hong Kong e Singapore Che continuano la loro battaglia per assicurarsi appunto il nome di capitale cripto Insomma sappiamo essere due paesi estremamente favorevoli Singapore e Hong Kong Anche se in realtà nell'ultimo periodo Singapore sta un attimino rallentando Proprio per il fatto di licenze rilasciate in maniera molto facile Per quelli che sono gli exchange E appunto richiede ora di essere iscritti a un registro Insomma una specie di SEC di Singapore Però diciamo che tutto sommato continuo a essere estremamente propenso Ogni volta che lego questi articoli sia di Hong Kong che Singapore Dico ma perché noi in Italia non cerchiamo di sfruttare un po' di più la situazione a nostro favore Sarebbero tutti i gettiti fiscali Tutti i soldi che entrerebbero a dismisura Quindi come sempre insomma pensiamo sempre alla nostra realtà locale Andiamo poi a vedere quello che sono un attimino le overview dei dati di Chapelle Dell'ultimo upgrade di Shanghai appunto che ha portato su Ethereum Di capire come stanno andando questi withdraw Withdraw che sono sempre in una fase abbastanza allenante Anche se attualmente non metto il mouse se no non si vede nulla Però praticamente sembrerebbe andare verso un rallentamento E comunque dei depositi che iniziano a tornare in maniera abbastanza aggressiva Se prima appunto erano solamente qualche piccolo spike Comunque ne stiamo vedendo recentemente di più Anche se comunque i depositi netti rimangono negativi chiaramente Nelle ultime 24 ore Proprio perché comunque i validatori vanno a ritirare i loro rewards Ma ripeto non è detto che vengano dampate sul mercato Possono essere reinserite nuovi sistemi temporali Anche di liquid staking o di altro Insomma per andare a ottimizzare le ricompense Sempre quello va tenuto in considerazione In ogni caso rimaniamo in osservazione anche di tutto questo E lo commenteremo nelle prossime giornate Andiamo a vedere invece i top gainers Telle 24 ore troviamo Rocketpool Che cresce di un più 14% Render che fa un più 13% Avalanche che fa un più 7% Phantom un più 5% Casper un più 5% Solana un più 5% BNB un più 3% Inactive un più 3% Insomma tanti nomi in gain Tra i losers anche qua qualcosina Clayton un meno 6% V un meno 4% KB un meno 3% Niu un meno 2% Ma anche però direi nulla di particolare Nulla di problematico Anche perché in realtà il problema si è generato alle ore 2 del mattino Dove appunto probabilmente l'Asia si è svegliata male E è andata a portare il prezzo di bitcoin con una candela oraria da meno 1,5% L'ha riportato a test sull'orario della 200% Proprio perfetta E poi siamo andati a recuperare in questo momento circa i 30.000 dollari Ci troviamo lì insomma tra i 30.000 Come supporto psicologico In realtà siamo andati a fare lo vedete anche sull'orario Un double bottom In queste zone qua proprio dei 20.000 e 8 Scusatemi dei 20.000 e 8 E appunto ora vediamo Se il pezzo riuscirà a tenere in ogni caso rimane in un range più ampio Lo vediamo anche a livello giornaliero Siamo per farci un po' più di chiarezza rispetto a tutto quello che è il momento attuale Vedete bene perché in realtà tutto questo stop In realtà che abbiamo avuto in questi 3-4 giorni Ci ha permesso di riportare le medie mobili vicine Abbiamo anche la 12 sul giornaliero In zona 29.000 e 6 Che potrebbe anche tranquillamente essere testata E non cambierebbe assolutamente nulla Perché siamo comunque in un movimento di lateralità In un momento dove comunque ci manteniamo estremamente positivi anche su Fibonacci Lo possiamo anche tracciare sull'ultima lag Che è andata a fare il prezzo di bitcoin Prendendo il nostro top temporaneo Lo vedete Il touch è perfetto sullo 0.38.2 Quindi possiamo confermare tranquillamente un ulteriore anche lag up Quindi non c'è pericolo per il momento in queste zone qua Ripeto appunto un Fib che facciano anche una cosa Sì magari non così esagerato Però che possa riportarci di nuovo anche in queste zone qua Ethereum invece si trova estremamente carico Estremamente bullish secondo me in questo momento Ovviamente lo ripeto anche per i nuovi Lo sapete non sono i consigli di trading Nei finanziari né di alcun tipo Quindi non andate a prendere quello che vi dico E andate a fare gli oli sul mercato Però a livello grafico Lo vedete come abbiamo già commentato La 12 anche sul giornaliero Era una media estremamente tenuta E ci dava fondamentalmente degli ottimi Buy zone In questo momento sta tenendo molto bene Nei 20.100 siamo sui 20.096 Peschiamo liquidità sui 20.075 Ma la domanda ci tiene a galla Vediamo anche sull'orario appunto che cosa è accaduto Movimento molto simile a Bitcoin Insomma alle ore 2 C'è stata questa correzione Un 1.30 al Bitcoin Qua un 1.75 E adesso recupero Sulle zone sempre dei 20.100 Nient'altro di particolare da aggiungervi Se non ecco un piccolo accenno sulla Dominance Che la vediamo in correzione La vediamo in correzione Dopo aver fatto questo fake out direi Questo spike molto forte Lo avevamo già commentato Trovamo di fronte a una resistenza molto importante Per la Dominance di Bitcoin Siamo andati a dare indietro 4708 Vedete quanto basta per dare anche una miccia A molte alcoin A molte alcoin anche come Ethereum E ricordiamoci solo una cosa Vi lascio con questo concetto Nelle alcoin season Se ci sono e se arriveranno Bisogna posizionarsi prima Non a più 70-80% fatto Quindi quando qua vi parlavo di posizionamenti alcoin È perché di base poi Se Bitcoin intiene una cosa del genere Un ritracciamento forte su un pump molto esagerato Della Dominance dell'ultimo periodo Perché ci ha portato da un 42-43% Se lo otteniamo per eccesso a un 48% Che è veramente tanta roba Può andare a ridistribuire sull'alcoin in maniera massiva Triglioni No, triglioni no Però parecchi milioni Miliardi di dollari Quindi Occhio su questa cosa qua Ed è per quello che ne abbiamo parlato prima Detto ciò Non voglio andare oltre Non andiamoci a ingrabugliare in altro Ci aggiorniamo comunque prestissimo Appunto con il prossimo update Ancora una volta Vi auguro a tutti una splendida giornata Un buon lunedì E noi ci vediamo presto appunto Ricordatevi un like In iscrizione Qua ora siete nuovi Tutto ciò Ciao E buona giornata Grazie a tutti